ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Stan vi do il benvenuto qui al canale siamo qui su farming simulator 2019 nella mappa minibrew come potete vedere siamo in compagnia del nostro amico che è diventato un omino di neve simulator for life buongiorno salve ragazzi devo devo fare una piccola precisazione prima di iniziare tu questo omino di neve secondo me non so che cosa hai preso prima di iniziare la puntata ma io qui non vedo niente non c'è nulla lui vede l'omino di neve comunque buongiorno benvenuti ovviamente in questo bel video allora cosa dobbiamo fare oggi dai diciamo che andiamo avanti con le nostre lavorazioni con la silvicoltura esatto ovviamente e poi avremmo pensato a una bella cosina abbiamo pensato abbiamo anche visto tramite dei contratti e trovato sì e trovato esatto che ci sono dei contratti che vi faccio vedere immediatamente due contratti di sgombero neve allora faremo questi due bei contratti ovviamente uno da 15.000 uno da 7.000 vabbè comunque più o meno il ricavato diciamo è sempre quello e ovviamente se avremo tempo sgombereremo anche un po' di neve dalle nostre farm almeno direi dalle strade principali va bene ok però prima di tutto dobbiamo terminare il lavoro che avevamo iniziato nella scorsa puntata ovvero finire di tagliare gli alberi nel campo qui qui ad alberi praticamente molti di voi ci avete fatti i complimenti volevo solo fare una precisazione ste molti di voi ci avevano fatti ci avete fatti i complimenti diciamo per non come abbiamo tagliato ma insomma per la zona e ci avete consigliato in moltissimi nei commenti di prendere un aratro e arare questa zona per farci un campo raga poi vedremo man mano poi cosa fare sinceramente in questo campo anche perché amministrativamente parlando questo terreno è di ste quindi sarebbe di competenza sua sì o il caso mai in base a quello che vogliamo fare potremmo prenderne anche un altro esatto sì 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 nessuno ci potresti prendere questo qua giù da 63 mila euro andiamo avanti a fare legna esatto esatto e fare magari due campi o metterci qualche che ne so allevamento raga poi comunque vedremo via via con le puntate andando avanti allora qui con sta neve si scivola che veramente è un piacere sì l'unica cosa che potevamo fare aveva ormai non possiamo farla più era mettere alla scorpion le catene e sì ci sono le catene sulla scorpion sì 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 ah figo non sapevo sta roba ma io mi chiedo perché me le carica a mo' di gonna ste sti 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 perché devi tirare devi spostare il trigger e come faccio a spostare il trigger ce l'abbiamo fatta raga qua a caricare abbiamo sistemato praticamente la questione qui del carico che caricava praticamente là in fondo e adesso invece ste mi ha aiutato a caricare praticamente qui davanti ci sono voluti 10 minuti però dai ci sono voluti 10 minuti sì effettivamente però caricava un po' in avanti un po' indietro ha delle funzioni davvero interessanti sì sì effettivamente sì parecchio interessanti certo bisogna un po' capirle ragazzi bisogna un po' studiarselo non è quel classico autoload che ci si aspetta si carica e basta è esatto è un po' più complicato infatti adesso guardate come me lo carica preciso prima invece facevamo dei mucchi figo figo oh oh ops vediamo se me lo carica direttamente oh sì me l'ha caricato direttamente il problema è che ci siamo bloccati ok vado a scaricare va perché siamo già anche abbastanza pieni perfetto raga andiamo a scaricare intanto ste continua lì intanto abbiamo quasi finito raga credo che una ventina di alberi e neanche forse neanche forse allora questo primo scarico lo scarico io sì perché l'ho scaricato io l'ultima volta esatto ah la faccia 46.000 bene però bene oh ma come si scivola sulla neve veramente non hai un'idea c'è il cassone che slitta da paura oh mamma ma quanti ne tagliati sono stato via due minuti ha deforestato tutto raga due minuti ha deforestato tutto sono due ore che sei in giro eh certo allora carichiamo di tutto adesso allora ragazzi questa puntata l'ho stata vedendo di in teoria martedì se non sbaglio sì esatto di martedì un extra diciamo è un extra è un extra budget è un fuori budget diciamo esatto ma perché spieghiamo comunque il perché ai ragazzi questo questo diciamo extra come vogliamo chiamarlo è dato dal fatto che se ben vi ricordate tutti quanti nel mio canale il martedì di solito esce la ischia farm però siccome come avete già visto la ischia farm è terminata venerdì scorso praticamente e stiamo aspettando il nuovo dlc che uscirà questo giovedì e quindi abbiamo pensato di portare una puntata in più della mini brun dato che sta andando bene su entrambi i canali tutto sommato e volevamo un pochettino velocizzare anche sinceramente la serie perché abbiamo visto che sta andando un po' troppo a rilento ma perché ti fai sempre meno te scusa eppure carico più o meno sempre uguale ma già anche l'altra volta l'ho notata sta cosa che facevi sempre meno prova a contarli prova a contarli effettivamente sì non è una cattiva idea non è una cattiva idea e no mi fastidisce sta cosa dovrà dire la verità andando contro i miei interessi perché potrei anche far finta di niente la prossima volta pagherai da bere insomma beh quello sicuramente un bel fiasco di vino ok adesso non ti puoi lamentare è bello pieno qua te lo vado a portare e poi te lo vieni a scaricare 38 eh mannaggia non riesco a superare i 45 non riesci a superarli ma perché ma perché non lo capisco ti giuro sarò sarò il re della legna a questo punto che ti devo dire eccolo a me che non mi piace neanche fare silvicoltura ho visto eh vedi quando si dice che chi c'ha il pane non c'è i denti guarda eh vedi è proprio vero allora mi stai facendo troppo lavorare qui eh ma no ha buttato giù tutto raga ma mancano quattro alberi in teoria ha buttato giù tutto guarda che io qua vado a chiamare veramente eh la protezione la forestale la protezione civile tu ti chiamo eh oh poi mi ha creato tutti i mucchietti eh bello preciso eh veramente perché non ci apriamo una ditta di di deforestazione di alberi no no è meglio che le deforestazioni le facciamo qua in gioco che sì che in altre parti era proprio ragione ah 29.000 euro dai è un po' più accettabile adesso ok un po' più accettabile dai comunque sei a quanto di soldi io sono a 220 più o meno ah la faccia e allora io mi facevo preoccupazioni per niente tu io sono a 180.000 euro è furbone ragazzi oh è furbo eh va bene io qua comunque ho finito a parte gli scherzi e le nostre battute bene adesso arrivo a finire di caricare adesso dici di caricare che poi vediamo il da cosa fare ok non mi da accesso stutter allora guarda io ho caricato vai vai a consegnarteli vai che sono stufo di andare va beh allora andiamo a farci sto sto ultimo carico qua andiamo a venderlo e la teniamo ancora per il momento la scorpion king direi di sì va per il momento sì 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 la teniamo neppure i pupazzi qua sulla segheria hai visto no eccoli qua dove questo questo qua non c'è niente qua raga vedete qualcosa voi va bene va bene cioè sento che c'è qualcosa che mi collide devo dire ah vedi sento che c'è qualcosa che collide ma non lo vedo cioè raga o sono cieco io o se è preso qualcosa lui sono le cose adesso raga come abbiamo detto a inizio video ci iniziamo a sgomberare dalla neve le varie strade stradette che ci serviranno poi da da battere diciamo non in senso negativo aspetta ti prendi quella da 7 prendi tu quella da 15 sì va bene dai stavolta stavolta accetto dai allora mi prendo io quella da 15 raga eee vediamo se mi segna il posto esatto quello che volevo dire sì la segheria eccolo qua e no invece il tuo è qui vicino va bene io la vedo o non la vedo domanda ah qui tutta la strada innevata la vedi qui la vedi la strada qua sì la devo fare io il puntino della segheria sì sì il puntino della segheria lo vedo tu devi liberare la segheria praticamente dalla neve sì e io devo liberare questa strada principale bene però sinceramente eh sinceramente vale più il lavoro mio che libera una strada dritta tua sinceramente sì però però va bene fatti gli affari tuoi fatti gli affari tuoi dai no ma stavo solo una valutazione no 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 lascia perdere che poi se lo sente il sindaco poi magari cambia idea va bene va bene chissà che assessore ti sei eh tranquillo lo so io non ti preoccupare allora raga e a parte gli scherzi ovviamente fai strada intanto però perché eh sì io volevo solamente iniziare a prendere il camion esatto allora abbiamo inserito un paio di pack il pack il primo pack è quello che avete visto nella mia serie nella no man's land all'its winter pack con il mega trattorone con che sarebbe questo qua il sintrac siccome parlo personalmente io il sintrac l'ho già visto io opto per il man se te ti interessa invece di più il sintrac lo vuoi prendere valuta te qual è ah questo è il sintrac aspetta questo è il sintrac adesso sto facendo vedere anch'io esatto questo qui è il sintrac con varie configurazioni tu dovresti ah volendoci anche ci sono anche le catene carino con le catene sì ho capito però il prezzo costa di più il mezzo che il noleggio alla fine io io voglio provare questo man in realtà me lo noleggio per 8.070 va bene comunque io intanto vado al negozio sì anch'io vado al negozio che non vorrei mai prendere la tristettura e poi doppia wow fighissimo raga wow raga mamma mia che figata ste bellissimo vediamo sì il sale me lo carica avevo paura un po' per quello guardate anche la freccia qua dietro fighissimo raga veramente va bene allora io fammi vedere cosa hai preso tu non so se stai arrivando ma comunque sì ho disegno leggiato alla grande proprio cavoli alla grandissima proprio no alla grande allora ok io ste inizio sinceramente inizio che mi sa che fai anche presto allora proviamo un pochettino intanto proviamo una passatina con questo robo qua a vedere se effettivamente lo toglie urca perché non me lo toglie perché forse non si parte da lì però a me me la fa togliere e la missione è già al 27% ok allora tu sei a posto noi invece raga abbiamo un piccolo problema nel senso che a me proprio non mi funziona l'unica cosa che io posso utilizzare è probabilmente il sale però vedi la neve me la fa togliere col sale vabbè raga noi procediamo col sale invece belli spediti col sale cavolo io devo togliere un'intera proprio strada dalla neve bellissimo cioè non era solo quel pezzo dritto dovevo anche girare c'è un bel pezzo vabbè anch'io un bel pezzettone qua allora da togliere togliamo la neve bisogna stare attenti ai tubini però eh sì occhio alle cose un po' bassine perché si blocca io credo di aver già finito sinceramente credo di aver già finito vediamo un po' se ho ragione 82% ah anche il piazzale devo liberare anche sto piazzale qua dentro devo liberare raga ah pure sta strada qua devo liberare la miseria raga ma tutta la strada mi fa liberare qua anche di qui devo andare mi sa ma aspetta un attimo adesso che sto vedendo un'altra cosa ci sono dei paletti sì sì che ti indicano la strada che ti indicano che ti indicano dove togliere la roba vai liberiamo anche qua guardate quasi quasi vado dritto per dritto non so sinceramente in realtà mi concluso eh non capisco però se sei tu o se sono io no è il tuo perché a me da ancora 60% ok allora buon questo pezzo non dovevo liberarlo però vabbè oramai l'ho liberato va benissimo così fighissimo raga veramente strada liberata eh io ho liberato tutto e sinceramente mi è bastato tantissimo il sale anzi quasi quasi potevo caricarne anche meno sinceramente ma comunque tanto tutte le cose che dobbiamo ancora fare raga ci sta bellissimo veramente ora andiamo a dare un'occhiata a quello che fa ste intanto io mi restituisco il contratto che 15.000 euro sinceramente non sono assolutamente male e voilà abbiamo liberato tutta la strada hai bisogno di una mano tu? alla fine ci è venuto dare una mano proprio qua è che purtroppo non riesco a togliere la neve che hai accumulato purtroppo questa qua non riesco a scioglierla dovresti provare a spostarla di ecco mi son bloccato spindami una spinta no a posto a posto ah no ok dammi eccolo qua contratto concluso oh la che bello guarda come spande la neve che figata ora non ci è rimasto in realtà raga moltissimo tempo però io in realtà nel poco tempo che mi è rimasto vorrei ste andare a sistemare innanzitutto questa strada qua e partirei decisamente oh aspetta 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 che ho sbagliato aspetta che ho sbagliato devo metterci il sale devo metterci il sale no non ho accesso a questo ah si che ho accesso al terreno cavoli si eh ricordavo infatti questo è il mio terreno in teoria e liberare almeno la strada qua piano faccia strada faccia strada lei ecco faccio strada io così almeno sei un po' più tranquillo si che io non scivolo troppo cioè in realtà si scivolo tantissimo ma questi sono dettagli ecco qua non ho più accesso al terreno è tutta un'altra cosa qua non ho più accesso al terreno però purtroppo bisognerebbe poi acquistarlo provo io provaci tu provaci tu ma credo che non ti fa neanche a te fare e invece di qua in teoria si perché mi dici di no perché mi dici di no questo è posto mio e tu mi dici di no questa è roba mia tu mi devi dire di si eh vedete com'è bello così no non mi lascia eh no perché non è nostro bisognerebbe affittarlo fare un po' di robine va beh cerco piano piano di arrivare in farm io anche sono in farm ci sono arrivato benissimo iniziamo raga a togliere no lo stesso problema che mi ha dato la scorsa volta che si vede il dirupo raga il dirupo da te là come sta andando ti vedo girare bene bene benissimo benissimo sto sistemando giusto l'ingresso qua di casa perché se no aspetta che devo allungarlo io se no poi la mia povera nonnina quando esce cade capito ah giustamente raga liberiamo anche da dietro le galline fino a qua va benissimo abbiamo anche un sacco di uova da ritirare bene benissimo oh 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 piccoli problemi tecnici no a posto a posto frena frena ah ma io anche posso camminare qua su raga guardate il primo camion spazzaneve volante che figata stiamo volando io devo ammettere sono molto soddisfatto lascio un qualche traccia di neve volontariamente perché mi piace che si veda un po' un po' di neve però devo dire tutto sommato ho risolto le problematiche relative allo slittamento qua ecco ti ho liberato giusto l'ingresso eh ah grazie stavo cercando di caricarmi la neve sul carro oh che bella opera d'arte wow non sapevo dove metterla e allora il falò abbiamo fatto di neve ti ho preparato si ti ho preparato qua un po' di neve visto che non vedevi i pupazzi di neve qui ne possiamo fare a pallate praticamente io direi che per il momento ci possiamo salutare qui direi che per il momento è tutto ringraziamo per la visione ovviamente di questo bel video vi ricordiamo che nelle nostre descrizioni potete trovare i link utili discord telegram eccetera e il link delle donazioni se volete fare un piccolo supporto al canale e vi ringraziamo e ovviamente anche i canali reciproci io ti mando un grosso saluto anche ai nostri amici io saluto te ti ringrazio ancora e saluto i tuoi amici io saluto i miei amici e ci vediamo ragazzi al prossimo video ciao ciao a tutti ragazzi ciao ciao